Musica Musica Una proposta delle lezze e una mozione di discutere in cussizzupro che cancellare esadizionale comunale su presor di ritor de imbarco in sosiscalo s'aeroportuale de Sardegna chi pacca nasa scompagnia sa aereasa. Alla presentare Fratelli d'Italia, chi sa punna di aumentare su traffico aereo e su scollegamento, fa che screschi su comparto turistico, chi sa arrivo a su manco di uno milione di passeggeri in pruso. A che cancellare esadizionale comunale, a naso capogruppo in cussizzu o truzzo, boccante che sa tassa 10 euro e 60 centesimo da passeggeri, che rennare di chiesa scompagnia sa aerea ardiana doppia risorvoloso, fa che andare a ribare plus turistasa. 90 milioni d'euro. Chi sa eliminazione è esadizionale, chi si condosordato del traffico aereo del duomizzo e 23 fa che entrare a sa scassi al regionale erbelle 32 milionese, sa regione di atterra a disponimento 60 milionese, che dian servire a soscomunese o bobbisun uso s'aeroportoso e a potenziare sa continuidade territoriale. Non è facile a fare che l'impresa è in Sardegna dei Meso. In uno territorio, chi può dire meda, ma chi è sta guti per auta e sa mancanza di infrastruttura e di servizio, che in sé spopulamenti in aumento, che neppi spruzzovano non resessino a mandare adennanti su un progetto imprenditoriale. Eppure, a dispetto delle tutte difficoltà, di in questo territorio pur, ma in realtà, di chi resessino a traballare e a entrare a mercato nuovo, grazie a suo coraggio e a suo spirito corporativo. E riborterie, in sintiri dell'assemblea dei soziosi, con fin d'industria Sardegna dei Meso, a premia uno scanto sozios suo, che si sono distinti in tutti i sannori di vita delle imprese solo. In prurde il riconoscimento, per le imprese associate dai 30 e 40 anni, hanno dato uno premi speciale a Battorrealtades, un'estella Sardegna, rappresentata da l'editora Caterina Cossedu, per la capacità, in sui ultimi sannori, di diventare dai locali al regionale, proponendo un servizio di primore per i cittadini. Sono usati lo spremio su un'andosa di un moda imprende a Nugorese e l'isso, rappresentata da Ivana Fois, a treci per fabbricare Ordeo Rosei e a costi rene Italia, che insiede in Ottana. Sa popolazione sempre spruvezza va vinta sul reparto schittancano in sozispidale e speriferico della Sardegna e sa mancanza di assistenza territoriale va che è una maniera che tutti i sospazienti e sardo s'accudano a Castello e le sozispidale sono oramai a punto malo. Agnese Fordis, sa direttora generale dell'azienda di rilievo nazionale e dell'arte specializzazione Brozzo, ha posto il rieri inteso tutto il suo sinteressato al suo problema, ha deciso di dare e schire come è questa situazione, che è grave, che è uno scanto ormese e sta affrontando in sozispidale per il mano della regione. In Sassurti Mardiesi scrive Fordis, camus accaboso, sposto orletto a disponimento in belle tutto il reparto. E sta andare schiamo spazienti in sozpassadissoso, orario dei traballi impossibili, sprooperatore, medico e paramedico, desispidale, desuplanu. Sa dirigente di Riola, Zai, commissaria straordinaria dell'azienda ospedaliera universitaria di Castello, sa giunta a Asolinas, su 30 di Natale di su 2.21, l'ata nominata a dirigere Sarnas Brozzo. Uvesti stata dirigente amministrativa per una decina di annoso, a Pustir di Argiao, che insomma tessi in Garrigo, sul distretto sanitario dei Susulcis. In su campi sportivi di Abbiadori, su protagonista e su polo, su circuito dei Tala Polo Challenge, Ideauda e Patricio Ratagan, in questa tappa Sarda ha fatto arrivare a Sacosti Smeralda sa magia di un esporto, considerato vincere a pacotempo scosa di Riccoso. Chi sa regolare dell'arena Polo in Bezzese, si cerca di accurziare le aziende a una maniera nuova di considerare su polo. Chi non è il campo per un minore, tre rio cadore sproccate in squadra, tempo di gioco di otto minuti o tre stempo di chi benvenuto scada uno, su rispetto della salute di Zucabadu. Su torneo, chi imbatte ordine delle gare al fin da su vinti delle tribunali, chi sa tribunali aperte a su pubblico, l'ha organizzato sa federazione italiana i sport equestres, chi sa collaborazione desu comune di Arzachena e desa regione Sardigna.